Buon pomeriggio, allora io ho una prima domanda però che la devo fare in maniera molto... Lei è convinto che Conte sia un vero cattolico-democratico? Perché lo dice lui? Io non sono in grado di dare questa patente ma ricordando sullo intervenendo a un evento della fondazione che ho l'onore di presiedere che si chiama Democrazia Cristiana, il professor Conte ha detto che il cattolicesimo politico è un giacimento culturale che può dare ancora linfa a una nuova politica che lui definiva la democrazia dei cristiani, mutuando l'espressione da un fortunato libro di Pietro Scoppola. Quindi è un linguaggio prima che un pensiero che sta tutto nel solco del grande fiume del cattolicesimo democratico. Esiste un nuovo modo di intendere l'impegno politico dei cattolici? Ce lo dice il Papa, i cattolici non sono liberi pensatori ma sono liberi individui che esercitando il libero arbitrio e scrivendo il quinto evangelio comunque traggono ispirazione dai valori del Vangelo e dalla lettura che quotidianamente dà il Santo Padre. Nella chiesa di Paolo VI la democrazia cristiana nacque e si affermò, non nacque con Paolo VI ma con Paolo VI si affermò come partito Stato. La politica come forma più esigente di carità ispirò generazioni di servitori del Paese. Quella di ci è possibile oggi? Direi di no perché è cambiata la politica. Oggi nessun partito è partito Stato. Ogni partito ha una snellezza di messaggio. I cattolici possono riprendere la propria strada dopo 25 anni di interruzione. Sarà diversa da quella che hanno lasciato 25 anni fa. Dobbiamo andare a incidere però su qualcosa di particolare e una delle cose particolari è la questione del lavoro. Al governo bisogna chiedere di uscire da questo grande fratello e indicare una via per il lavoro. Qual è un contributo che si può dare? Il lavoro non è un treno che parte da solo. È un indotto che sta a valle di un disegno economico. Io faccio un'azienda perché ho un'idea e quindi assumo delle persone che lavorino per la mia azienda in modo da realizzare la mia idea. Questo vale nel privato e nel pubblico. Si può lavorare a servizio di un imprenditore o dello Stato, ma serve che l'uno e l'altro abbiano un'idea. Il limite dello statalismo è che alimenta stipendi non produttivi, cioè non c'è un'idea a monte e quindi non c'è un lavoro utile a valle. Dobbiamo riprendere a dare coraggio agli imprenditori, che sono i soli che possono dare lavoro. E la ricetta sappiamo qual è, Stato leggero, burocrazia zero, tasse basse, incentivi fiscali. E siamo lontani da quello che il governo sta facendo purtroppo. Lei vede anche soltanto abbozzata quale che sia una linea di politica industriale per questo Paese? Noi abbiamo dismesso la linea di politica industriale che apparteneva alla democrazia cristiana. Seguendo il luogo comune, che è piccolo e bello, abbiamo distrutto la grande impresa di Stato, l'impresa pubblica. L'abbiamo svenduta, frazionata, abbiamo realizzato uno spezzatino che è servito solo agli speculatori che se ne sono appropriati per quattro soldi. Le privatizzazioni sono state una scelta ideologica. Le scelte liberali dovrebbero essere mai ideologiche. Il liberale deve dire do tutto al privato per far funzionare meglio una cosa. Non deve dire io do tutto al privato perché voglio punire lo Stato e una cosa che funziona. Oggi, dopo tanti anni, la valutazione sulle privatizzazioni è critica. E lo schiaffo morale è che l'unica grande azienda italiana che vola è Leonardo, che di fatto è l'ultima grande impresa pubblica che c'è. E tutti quanti adesso si affrettano a voler vedere la cassa depositi e presi da tutte le parti. Vorrebbero un intervento dello Stato dalla società che si occupa di portapenne alla grande industria. Lei la vede possibile un'operazione del genere? Io ricordo che in una delle tante crisi della Fiat costate al contribuente italiano non so quanti miliardi, il Presidente Berlusconi, allora Premier, gelò una riunione di ministri intorno al suo tavolo dicendo da pragmatico imprenditore quale era, ma se dobbiamo pagare tutti questi soldi perché non ce la compriamo? Perché non statalizziamo la Fiat? E alla fine sono ragionamenti che fa anche l'agente comune. Meglio l'impresa di Stato pagata dai contribuenti che interventi a pioggia, contributi e lemosine che arricchiscono i soliti speculatori. E non parlo naturalmente della Fiat che è un marchio che rinvia alla storia economica di questo Paese. Quindi non è nemmeno giusto dire che la Fiat sia stata una storia di speculazione. È stata una storia di un grande marchio con cui è finita l'industria italiana. Diciamolo francamente, almeno quella automobilistica. Quindi era giusto sostenere la Fiat. Come forse in una certa fase della sua storia poteva essere giusto statalizzarlo. Proprio un minuto, lei crede che alla fine questi 209 miliardi del recovery fund e di Next Generation EU arriveranno e se sì saranno utili, saranno spesi? Se arrivano a giugno la salma è già composta nella bara. Quindi serve il MES, bene ha fatto Forza Italia oggi a fare un voto simbolico che metta tutto il Parlamento di fronte a un'evidenza. che il MES serve e chi gli dice di no si assume la responsabilità di far fallire il Paese.